Diciamolo, dal punto di vista della viabilità, Rosciano non sta vivendo uno dei suoi momenti migliori. Preoccupazione diffusa per il nuovo senso unico che sorgerà, presto il famigerato svincolo con via Campanella subirà una trasformazione con un altro senso unico e per entrare dal quartiere provenendo da Bellocchi si dovranno fare due rotonde e il giro dell'oca. La nuova Interquartieri poi che taglia fuori la periferia a monte della città con biciclette e pedoni che non se la passeranno troppo bene, stante così le cose. In più ai nuovi problemi si aggiungono le situazioni ormai incancrenite nel tempo e che certo non migliorano la situazione generale. Siamo tornati a Rosciano nella cosiddetta strada di mezzo. Dieci anni per aspettare un'asfaltatura, questa strada la sta aspettando come i loro residori, e naturalmente le condizioni di usura e di depauperamento del manto stradale si vedono e si sentono sotto le ruote delle macchine. Una lottizzazione per diverse decine di nuove unità abitative che non parte e che avrebbe dovuto, ci dicono i residenti almeno sulla carta, prendersi carico del rifacimento della strada, il cui segno di vita sono dei logori e anacronistici cartelli che indicano la prossima costruzione. Poche centinaia di metri per un percorso che, vista la prospettiva, diventerà sempre una vera alternativa al turbinoso percorso che si dovrà fare per entrare ed uscire dal quartiere, ma che con le buche sarà un vero e proprio calvario, sobbalzi in grande quantità. Sì, ecco, quella lì voglio ricordare che è rimasto un pezzettino, ma non perché ci siamo dimenticati o non abbiamo voluto asfaltarlo, semplicemente perché lì sono previsti dei lavori, abbiamo già dato un ultimatum a coloro che devono eseguire questi lavori, perché se non li eseguiranno interverremo noi, perché ormai è già passato troppo tempo, però quella era una... tant'è che a Rociano abbiamo asfaltato tutte le strade tranne quel pezzetto, quindi dico di stare tranquilli perché o noi o il privato l'asfalteremo. Io ricordo che Fano ha oltre 400 chilometri di strade, erano tutte da asfaltare, ne abbiamo asfaltate circa 90 chilometri, proseguiamo appena annunciato un intervento importante di nuove asfaltature, alle quali se ne aggiungeranno delle altre, stiamo programmando una serie di strade in tutti i quartieri, in particolare dove non eravamo arrivati con le precedenti asfaltature, con un'attenzione anche a quelle strade periferiche, cosiddette anche di campagna con un metodo diverso che abbiamo già sperimentato e che funziona, quindi arriveremo anche in questi borghi, in questi luoghi più periferici.